Ciao, bentornati a tutti! Oggi nell'art tutorial è simpaticissimo ispirato al personaggio Pimpy, che viene anche comunemente chiamato Piglet. Allora, per fare questa nell'art andrò a utilizzare tre tonalità di rosa, tra cui un pret-à-porter davvero chiarissimo, questo è un rosa confetto e sarà la base del viso di Pimpy. Poi andrò ad utilizzare questo per le altre unghie, dove non andrò a disegnare la faccia, e andrò a fasciarlo con delle linee nere, e sarà il corpo di Pimpy. E poi utilizzerò questo fucsia, che è il debitisco numero 02, per colorare il naso fucsia, un po' più scuro. Utilizzerò uno smalto dalle latta nero per disegnare gli occhi, il naso, gli orecchi e tutto il resto. E' come al solito il Top Coat Pret-à-porter Debora Milano Base e Top Coat 2 in 1. Quindi seguite tutti i passaggi del tutorial per capire come si fa questa nell'art. Come al solito vado a stendere la mia base protettiva, questa di Debora Milano Pret-à-porter. Sul pollice e sulla lunare stendo uno smalto rosa confetto molto molto chiaro. Con uno smalto da nail art a punta sottile nero vado a disegnare uno smile. Dopodiché vado a disegnare sempre con lo smalto nero la sagoma del naso. Adesso è la volta delle sopracciglia in alto. E con il dotter e uno smalto fucsia bello acceso vado a colorare il naso. Due occhietti neri e passiamo un Top Coat. In questo modo la nail art è completa. Il tutorial è completo, fatemi sapere come al solito cosa ne pensate. Io vi mando al prossimo video tutorial di nail art. E se vi va aggiungete il video tra i preferiti o condividetelo su Facebook. Un bacione a tutte e al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.